Musica Leggerò dal Vangelo di Marco, dal capitolo 16, versetto 9 Chiaramente la risurrezione è portata in ogni Vangelo, è scritta in ogni Vangelo Marco fa una sintesi anche perché è il Vangelo più sintetico Ci sono solo 16 capitoli, mentre ne abbiamo 27 in Matteo, 24 in Luca e 21 in Giovanni Andiamo a leggere Marco, capitolo 16, versetto 9 Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana Apparve prima Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni Ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano Ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero Dopo queste cose, cioè a questo punto io mi fermerei un attimo per dire Continuarono a piangere, continuarono a essere afflitti Arriva una buona notizia e non viene accolta Poi vi spiegherò meglio questi fatti Dopo queste cose, apparve in altra forma due di loro, i discepoli sulla via di Emmaus Che erano in cammino verso la campagna Anche essi andarono ad annunziarlo agli altri Ma non credettero neppure loro Infine apparve agli undici, mentre erano a tavola E li rimproverò Certo, il fatto di apparire a tavola è abbastanza particolare Adesso state a tavola, adesso vi faccio vedere io come bisogna mangiare Andò un attimo a rimproverarli mentre stavano mangiando Forse era il momento meno opportuno secondo noi Ma Gesù sceglie i momenti che vuole Questo ci fa capire come dobbiamo essere attenti in ogni istante Perché in ogni momento a tavola O guardando la tv, oppure camminando, o parlando Può arrivare un rimprovero Sapete che il Signore rimprovera Ma rimprovera sempre per migliorarci E li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore Perché non avevano creduto a coloro che l'avevano visto risuscitato Amen Vene detta la sua parola L'evento della croce è accaduto È stato seppellito Gesù è stato annoverato tra i malfattori Ma succede qualcosa di incredibile che cambia la storia umana Se Gesù non fosse risuscitato Perché c'è questa idea che si diffonde ai tempi dell'Apostolo Paolo E l'Apostolo Paolo in Prima Corinzia al capitolo 15 Spiega molto bene la resurrezione Dice senza la resurrezione la nostra fede è vana Senza la resurrezione dice la predicazione è vana Senza la resurrezione noi siamo falsi testimoni Senza la resurrezione non esiste nulla Sapete perché fratelli? Perché senza la resurrezione Gesù sarebbe stato un altro dei geni religiosi Come ci sono i geni matematici I geni nella pittura, nella scultura I geni che ci sono nella canzone, nel canto Così ci sono stati nella storia dei geni religiosi Che hanno in qualche modo concepito dei credi Nella storia Ma Gesù è venuto ed è risorto L'aveva annunciato Distruggete questo tempio in tre giorni Io lo rifarò E mantiene la promessa Lui risuscita, viene risorto Dice la parola che il padre spiegò la sua potenza per resuscitarlo Quindi cambia la storia della fede Cambia la storia delle fedi E dà alla fede cristiana una vittoria su tutte le fedi Significa dà il primato Il primato di Gesù Cristo Perché esiste un unico solo vero Dio E un unico salvatore che è Gesù Dio padre, Dio figlio, Dio spirito santo Lui dà il primato Perché nessuno può predicare che Gesù è risorto Nessuno può dire che hanno altri risorti Non ce ne sono Solo il nostro Signore è risorto per non morire più Nella parola del Signore ci sono diverse resurrezioni Cominciano nel Vecchio Testamento Con Elia e Eliseo compiono due resurrezioni Ma la resurrezione di Gesù è per non morire più Mentre una volta risorto anche Lazzaro È entrato per la morte È passato per la morte Gesù una volta risorto non morire più Riprende la sua gloria Lui disse ai discepoli della via dei Maus Mentre stava sulla via dei Maus Ricordatevi Se leggete in modo pignolo questo passo Voi vedete che i discepoli non parlano mai del Messia Parlano Gesù il Nazareno Ma Gesù il Nazareno Come è limitato È Gesù Cristo il Nazareno Cioè Gesù è il Nazareno Sì Ma è il Messia È il figlio di Dio Perché questo È questo Che molti non riescono ad afferrare Io ho ascoltato una trasmissione molto bella In tv Quando ha parlato Esattamente sabato scorso Fece Roma città segrete E fece vedere come il cristianessimo Venne e vinse Tutta l'idolatria romana L'idolatria che si basava Sull'adorazione dell'imperatore Che era un po' come il faraone I vari dei Le molteplicità dei dei Come il cristianessimo vince Però il commentatore che era bravissimo Che era bravissimo Corrado Augas Molto bravo Molto preparato Mi fa sempre piacere sentirlo Lo nominava come Come Oscea Va bene Ma non lo nominava come Figlio di Dio Come Come il Cristo Parlava del Nazareno La religione cristiana Ma dire che Gesù è il figlio di Dio È un annuncio Che solo noi possiamo dare Che solo i figlioli di Dio Perché sono risorti prima loro Noi annunciamo Gesù risorto Perché lui ci ha fatto partecipi Della sua risurrezione Perché eravamo morti Nei nostri peccati E lui ci ha risuscitati Ci ha fatti nascere di nuovo Questo significa partecipi Della sua risurrezione È venuto Tramite qualcuno O qualcuna E ci ha parlato di Gesù E noi siamo stati risuscitati Risuscitati Siamo stati tirati fuori dalla tomba Siamo passati dalle tenebre alla luce Siamo passati dal potere di Satana Al potere di Dio Dalla potestà dice la parola di Dio In atti 27 Allora la risurrezione È un fatto eclatante Importante Determinante Perché Cristo è risurto Amen E lo diciamo a tutti Cristo è risurto Amen Gesù è risurto E come ha promesso Come tutte le sue promesse Nella parola Sono avvenute Così lui ha promesso Che ritornerà Nella sua potenza Nella sua gloria E come dicevo prima Ai discepoli della via dei Maus Lui dice così Non doveva il Cristo Soffrire tale cose Lui parla proprio così Mentre loro parlano di Gesù Il Nazareno Lui dice Il Cristo Il Messia doveva soffrire Perché il Messia È sempre stato visto Come un generale potentissimo Che Doveva in qualche modo Aggiustare tutta la dominazione Liberare gli ebrei Dalla dominazione Oppure Fondare un regno Dove tutto sarebbe stato giusto Non è così Di Gesù dice a Pilato Il mio regno Non è di questo mondo Perché nel mondo Non c'è Giustizia Pace Gioia Che c'è nello spirito Questi doni Li dà il Signore Perché il regno Dello spirito Consiste in gioia Giustizia e pace La giustizia non c'è Se non c'è Gesù Così non c'è pace Perché Gesù disse Io vi do pace Vi do la mia pace Non quella che il mondo Vi dà Non quella surroga Non quella imitazione La pace che Cristo dà E la pace Che noi Che noi Stabiliamo Riceviamo Da Dio Siamo in pace con Dio Abbiamo risolto Il problema Della nostra esistenza Mentre prima Molte persone Non sanno Che se sei inquieto Che se stai male Che se hai rabbia Se hai ira Se hai delusione Se hai amarezze Non si le toglieranno mai Se non farai pace con Dio E non è E guarda Voglio dirti una cosa Potrai fare pace Con il tuo marito Potrai fare pace Con i tuoi genitori Potrai fare pace Con il tuo vicino Con il condominio Con tante situazioni Che nella vita Magari Colpevolizzerai Darai colpa A tante persone Della mancanza tua Che ti senti male Adirata Che stai male Non è così Non è così Voglio dirti Che queste situazioni Le viviamo anche noi Le abbiamo vissute anche noi E molti di noi Le hanno vissute peggio Queste condizioni Ma siamo resuscitati Gesù Cristo Ci ha liberati Probabilmente Può darsi pure Che domani Affronteremo Le stesse situazioni Tue Ma con Gesù È un'altra cosa È un'altra speranza È un altro sostegno È un altro conforto È un'altra È un'altra condizione È tutta Un'altra cosa Vuoi mettere A stare con Gesù Gesù soffre Con la Chiesa Ha empatia Sta con noi Gesù ti capisce Ed è l'unico Che ti può capire Guarda Mia moglie Mi capisce in tutto E io capisco lei E così tu capisci Tua moglie E i tuoi figli Capite tutto Ma nessuno Può capirci Come ci capisce Gesù È incredibile La resurrezione Cosa ha comportato Nella nostra vita Ma voglio Sottolineare Alcune cose Che riguardano I discepoli Perché Ti puoi incoraggiare Voglio incoraggiarti A credere Questa mattina Non voglio Mettermi dalla parte Di dire Come sono bravo Che credo No Io sono stato Un non credente Poi Per grazia Sono diventato Credente E voglio incoraggiarti A credere Voglio incoraggiarti A credere Che anche se Stai vivendo La condizione Peggiore Anche se Stai In una condizione Tremenda Voglio incoraggiarti A credere E a sperare In Gesù Cristo Perché è lui Che ti libererà Questi discepoli Questi cari uomini Di Dio Undici Erano rimasti Perché Il dodicesimo Non In ordine Ma Giuda Si era suicidato Lui Ha fatto La scelta sbagliata Il figlio Di perdizione È perduto È colui Che ha tradito Gesù E quindi Non c'è più Si suicidò Si impiccò Perché Rifiutò La grazia E l'appello Del Signore Ma In effetti Gesù lo dice Io ho scelto Voi Dodici Ma In mezzo a voi C'è un demine La mano Di chi mi tradisce Mangia nel mio stesso Piatto Va bene Detto questo Andiamo agli undici Che sono rimasti La scrittura Dice che Piangevano Erano afflitti E dobbiamo già considerare Qualcosa Noi uomini Qua sono undici uomini In questo caso Questi uomini Piangevano Piangevano Perché erano rimasti Senza Gesù Erano stati con lui E sentono La privazione Sentono la mancanza Della figura Umana di Gesù Sentono la mancanza Di quella voce Sentono la mancanza Di quegli occhi La mancanza Di quei gesti Di quei rimproveri Pietro Era stato Era stato Ripreso Fortemente Anche Giacomo E Giovanni Ma ne sentono La mancanza Perché si sentivano Amati Protetti Uniti a lui Si sentivano Speciali con lui E loro piangevano E erano afflitti Però il Signore Aveva insegnato loro A credere Lui voleva Che credessero Anche attraverso Gli altri Perché la fede Si trasmette Attraverso persone Persone Incomplete Non perfette Persone Incomplete Non perfette Ma ciò che Ci rende Perfetti È il messaggio Perché il messaggio Che sto dando Anche questa mattina È più grande Di noi È più grande Di me Noi parliamo Di Dio Parliamo di Gesù Dello Spirito Santo E allora i discepoli Dovevano imparare Perché Gesù Era interessato Al loro pianto E tu stamattina E tu stamattina Devi imparare Proprio questo Gesù è interessato Al tuo pianto È interessato Alla tua afflizione Alla tua solitudine È interessato Alle mancanze Che stai avvertendo E ti manda qualcuno E ti ha mandato qualcuno Guarda la vita Non è mai un caso Soprattutto Quando si parla di Dio Quando si parla di Dio Non è mai un caso Mai Perché vuol dire Che Dio è interessato A te Dio è interessato A te Dice proprio a te Sì Ma io ho tanti bisogni Dio è interessato Alla tua anima I bisogni vengono dopo Dio innanzitutto Viene la salvezza Viene la grazia E infatti è interessato Ai suoi discepoli Gesù sa perfettamente Che stanno piangendo E sono afflitti Stanno male Sto male Però stanno talmente male Che non apprendono Dimenticano le lezioni del Signore Perché il Signore Li vuole portare a credere A chi? A una donna A Maria Maddalena A delle donne Le donne si erano preparate Degli aromi Diverse donne Maria Maddalena Maria madre di Giacomo Salome Giovanna Andarono all'alba Andarono all'alba E pensavano Come sarà arrotolata Chi ci aiuterà A togliere quella pietra Stanno i soldati Avevano tante Tanti pensieri E tanti ostacoli Ma la forza Di queste donne E che andarono La determinazione Il dovere Dobbiamo andare Ci sono i soldati Sì vedremo lì Ci sono C'è la pietra Va bene Ma cominciamo ad andare Cominciamo a camminare Questa è la fede nostra Cominciamo a camminare Poi Dio provvederà Cominciamo a credere Poi Dio provvederà Non cominciare a fare I patti con Dio Signore se fai questo Se fai questo No Questo non è il metodo Di Dio La fede comincia A camminare E poi Dio Comincia ad operare La nostra azione Corrisponde Ad una reazione Da parte di Dio Se non ti muovi mai Dio non si muoverà mai Sei tu che devi muoverti E la donna dal flusso di sangue Che toccò Gesù E il cieco Bartimeo Che gridò C'è qualcosa Che tu devi fare Così queste donne Andarono Trovarono Gli angeli Perché poi il Signore Ha gli angeli Ha i suoi angeli Chi toglierà la pietra Chi metterà a posto Chi Guardate fratelli Gesù poteva uscire Anche senza muovere la pietra Il problema Togliere la pietra Affinché entrassero Pietro e Giacomo Pietro e Giovanni Che dopo corsero Per entrare E perché quella tomba Doveva essere vuota E perché le guardie Furono stordite Dalla potenza di Dio E perché ognuno Potesse provare La resurrezione di Gesù Perché la resurrezione Di Gesù È un fatto Incontestabile È storico E perché nella storia È scritto Che Gli storici di allora Scrivono Che predicano Che Gesù è risurto Ma fratelli È dalla resurrezione Che viene la forza Dei martiri È perché Gesù è risorto Che fino ad oggi Esiste Il cristianesimo E progredisce Nonostante tante difficoltà Perché la fede Del Signore Porterà sempre La sua chiesa avanti Sosterà sempre La sua La sua sposa Allora Si recano le donne E le donne Sono le parti La parte più emarginata Ancora oggi Le donne Per gli ebrei Stanno dietro Gli uomini Stanno avanti Poi c'è Una Se andate In Israele In una sinagoga C'è un luogo Dove ci sono Dei reticolati Fatti di legno E le donne Stanno dietro Figuratevi allora Ma il Signore Usa Delle donne Per far comprendere Chiede alle donne Di mandare questo messaggio Perché quelle donne Avevano ricevuto Il messaggio Cercavano il corpo Del Signore E ricevono il messaggio Per il corpo E la chiesa E gli uomini Non riescono A comprendere Che Dio Fa come vuole Che Dio Fa come vuole E i discepoli Ancora impostati Sulla loro ebraicità E anche noi A volte abbiamo Delle impostazioni Siamo chiusi Ma Dio Si servì Di due discepoli Che non facevano parte Del loro gruppo I discepoli Della via de Maus E E Gesù Servì delle donne Per annunciare Ai discepoli Che stavano piangendo E afflitti Che era risorto Gli dava il motivo Per credere Per avere fiducia Per avere fiducia Nell'altro Nell'altra Ti faccio una domanda Pratica Tu credi Che quel fratello Che quella sorella Creda in Dio Credi che quella sorella E quel fratello Sia un figliolo E una figliola di Dio Tu credi questo? O credi che solo Il pastore O i servitori Gli anziani diaconi Siano solo loro? Tutti siamo chiamati A essere sacerdoti E quello che è importante È che tu abbistima Dei tuoi fratelli E delle tue sorelle Imperfetti Ma proprio questo Dice la parola L'amore copre Molto Moltitudine di peccati Il Signore ci ha chiamati Ad amare I fratelli E la sorella Ci ha chiamati A sostenere I fratelli E la sorella Ci ha chiamati A correggere I fratelli E le sorelle Ma ci ha chiamati Soprattutto Ad amare Perché è scritto Ama il tuo prossimo Come te stesso Poi se il fratello E la sorella Vuole ascoltare Beato lui Beato lui Perché se ubbidisci Beato te Perché nell'ubbidienza Al Signore Tu incontri La vita della resurrezione È chiaro Che è l'ubbidienza Lui Che ti porta A contemplare E a vivere E a realizzare Le promesse Del Signore Gesù Ora Arriva il messaggio Ai discepoli I discepoli Erano afflitti Piangevano E rifiutano Questo messaggio Non credono Né alla donna Né a due discepoli Che non fanno parte Degli undici Eppure il Signore Nella sua parola Aveva benedetto Proprio quando Scese lo spirito Sui settanta E su Mosè Anche i due Che stavano fuori Dal campo E nella sua parola Era scritto Ma disse Mosè Se il Signore Ha fatto così Va bene così Ha parlato ai discepoli Dicendo Che la vedova Di Sarepta Ebbe una visita Fu benedetta Da Elia Cioè Ci sono degli insegnamenti Che ci fanno capire Che Dio Non ha schemi E che il Signore Si serve di tutti Per manifestare E per incoraggiare Le persone L'importante E' questo Uno degli aspetti Di questo messaggio E' questo Devi comprendere Che le persone Che ti hanno parlato E perché Ti hanno parlato Perché Dio Le ha mandate A parlare con te Questo è uno Dei messaggi prioritari Ma il Signore Si serve di quella persona Ma cosa aspetti Che si apra il cielo Che venga Una schiera di angeli Ci guarda Ti vogliamo Presentare Gesù Ma che stai pensando Com'è la fede La fede E' quella che si trasmette A uomo a uomo Donna a donna E' quello che si trasmette Se tu credi A una persona Perché ricordati Se credi A coloro Che Gesù Ha mandato Crederai pure in Gesù Se onori Coloro Che ti hanno parlato Dio onorerà te Questo dice Nella sua parola Di vedere Negli altri Il messaggio Che ti dicono E dire Ma Dio Si sta servendo Di questa persona Non bisogna idolatrare Le persone Ma capire il messaggio Capire il messaggio Capire quello che Il detto La parola E' così fondamentale Capire la parola Di Dio Che ti è arrivata I discepoli Continuarono a piangere Gesù voleva Che non piangessero Che non fossero afflitti Ancora E' come quando una persona Riceve una Due Tre Quattro Cinque volte Signore ti parla E tu continui A fare le stesse cose Allora vuol dire Che non sai raccogliere Le benedizioni di Dio Non sai raccogliere L'amore di Dio Perché Dio ti parla In tanti modi E Dio sta parlando ancora Anche questa mattina A un certo punto Gesù vede Questa resistenza Così Dei discepoli A piangere A essere afflitti Non credettero Non credettero Pietro e Giovanni Corrono Giovanni è più veloce Arriva fuori Vede Il sudario piegato E crede Pietro entra Guarda E crede Tornano E comincia a riscaldarsi Il loro cuore Ma hanno ancora Delle difficoltà Dice E sotto questo aspetto E qui che ti voglio Anche incoraggiare Se i discepoli Non credettero Ebbero delle difficoltà È naturale Che tu Che tu possa avere Delle difficoltà Perché se ci pensi Seriamente Gesù è risorto Gesù sta in cielo Sta sul trono E se pensi Nel tuo silenzio Nella tua casa Ma Gesù è risorto Ma è vero Mamma mia Gesù sta in cielo E ha detto Che io un giorno Starò con lui E che lui ha avuto Un corpo glorioso E io avrò Uno stesso corpo glorioso E tutte le afflizioni Di qua giù Tutte le tristezze Che tu provi Vengono consolate Dalla visione che hai Dall'obiettivo che hai Da ciò che ti aspetta Ecco perché L'Apostolo scrive Che le sofferenze Del tempo presente Non sono da manifestare Alla gloria Che deve essere manifestata Perché Gesù Perché Gesù Quando risuscitò Ebbe la sua gloria Ebbe una gloria Che mai aveva visto Perché la gloria C'è un uomo Sul trono C'è il figlio Dell'uomo E il figlio Di Dio C'è l'agnello Che viene glorificato Da miriide di angeli E perché C'è lui Ci possiamo entrare Anche noi Perché lui Ha aperto la strada Lui ha aperto La via Ecco perché La resurrezione Per te Deve essere Il pane quotidiano Gesù è risorto A me E deve essere Anche per te stesso Ossia Quando vedi Che tu ripeti Gli stessi errori Ti voglio dare Un altro incoraggiamento Magari ti avvilisci Che la persona A fianco a te Compie Ripete gli stessi errori O Che tu stesso Se sei bravo Ad analizzarti Ti rendi conto Che a volte Fai gli stessi errori Non ti avvilire Perché pensa Che Gesù è risorto E quella forza Della resurrezione Si esprimerà Nella tua vita Per vincere Il passato E il presente A me Per vincere Gli avvilimenti Del passato E per credere Fratello mio Sorella mia Del grande perdono Che hai ricevuto In Cristo Gesù Questa vita vittoriosa Che ti entra Dentro di te Che è gioiosa Gloriosa Ineffabile Dice L'Apostolo Pietro È qualcosa Che è dentro di noi E che nessuno Ci può togliere Perché Ce l'ha data Il Signore I discepoli Non se l'aspettavano Ma a tavola Il Signore Si presenta Allora Questo significa Ricordati Non ti aspetta Di che Dio Si manifesti Attraverso Lo Spirito Santo Nel momento Più inopportuno Della tua vita È incredibile Quando tu Nel momento In cui non ti aspetti Il Signore arriva Amen Io lo so Che fa così L'ho provato Diverse volte Nella mia vita E sono convinto Che se ognuno Di voi Potesse parlare Ripeterebbe Le stesse cose Mi direbbe Anche io Non avevo più speranze All'improvviso Si è aperta Qua una porta Ma quella porta Non te l'ha Te l'ha aperta Il Signore Non è perché Sei bravo Perché no È perché Lui ti ama È perché Lui ti ama Ti ama Ti ama Ricordati Non ricevi le cose Perché sei buono Perché Lui ti ama Di un amore eterno Dice Nel Cantico De Cantici È perché Ascolta il tuo grido Perché ha visto Che stai con le spalle Al muro E arriva Lui E dice Non ti preoccupare Figlia mia Figlio mio Adesso sfondo io La porta Amen Ed è Lui Che fa così Con la sua chiesa Con ognuno di noi E così ha fatto Con i discepoli Guardate Allora Non credettero neppure Ai due discepoli Sì da via De Maus Arriva Infine Apparve agli undici Proprio alla fine Perché volevano Che credi Qualcuno potrebbe dire Ma Signore Ma perché non sei andato Dai primi No Io Innanzitutto Perché ho voluto Ho voluto Insegnare ancora una volta A credere A ciò Che altri Dicono Di me A ciò Che altri Dicono Di me Dovevano imparare A credere Anche all'Apostolo Paolo Che poi Il Signore Si scelse E infine Apparve agli undici Mentre erano A tavola E li rimproverò Prima Un rimprovero È bello Essere rimproverati Da Gesù O pensi Di essere Perfetta O pensi Di essere Perfetto Il Signore Ti rimprovera Ti rimprovera Per il tuo bene E non ti Non ti nervosire Se qualcuno Ti rimprovera Perché Noi abbiamo Tutti quanti Qualche grillo Parlante È vero C'è sempre qualcuno Che ci ricorda Qualcosa Dobbiamo dire Grazie Signore Grazie Perché Voglio ricordare E voglio impegnarmi Questo è Il senso Della memoria Quando qualcuno Ci ricorda Il bene Come dobbiamo Fare meglio Allora Li rimproverò Per due motivi Perché furono Increduli Furono increduli A Maria Maddalena Furono increduli Alle donne Furono increduli A due discepoli A Luca E Probabilmente Era Marco Che stavano lì Non sappiamo Il nome Dei discepoli Della via De Maus Ma Li rimproverò Per la loro Non credettero Voi non avete Creduto A due miei messaggi A donne E uomini Che hanno visto me Dovete credere Questo è il messaggio Principale L'ho detto prima Devi credere Questa mattina Che un uomo E una donna Ti ha parlato Perché Dio Ti ama E Dio Ha mandato Gesù Ha mandato Queste donne E questi uomini Perché amava I discepoli Perché li vedeva Afflitti Sapeva Che stavano male Li voleva Incoraggiare Incorare Li rimproverò Siete stati Increduli Quando un fratello Non crede All'altro O quando un cantore Non crede All'altro Deve credere Incoraggiare Per la loro E per la durezza E per la durezza Di cuore Furono duri Erano stati Tre anni con Gesù Erano duri E questo ci incoraggia Fratelli Perché se abbiamo Delle durezze Questa mattina Possiamo chiedere Signore Di sciogliere Di sciogliere Dei nodi Della nostra vita Di sciogliere Delle riserve Dei rancori Di sciogliere Delle posizioni Rigide E di avere Una libertà Maggiore Spiritualmente Parlando E vivere Di più La grazia Del Signore Amen Allora Voglio terminare Vogliamo alzarci In piedi Fratelli E sorelle Li rimproverò Per la loro Incredulità E durezza Di cuore Erano Sbalorditi Un'altra cosa Voglio dire Non li compatì Qualcuno Ma stavano male Ma sta male Fagli una carezza No no Gesù non gli fece Una carezza Voi dovevate credere Li rimproverò Lui poteva Rimproverarli Anche perché La gioia Della sua presenza Avrebbe superato Ogni rimprovero La gioia di Gesù Nel tuo cuore Supera ogni difficoltà La gioia Di tenere lui Nella tua vita Deve superare Ogni difficoltà Amen Perché Non avevano Creduto A coloro Che l'avevano visto Risuscitato Amen Li rimproverò Vuoi essere rimproverata Perché non credi Questa mattina Alla parola di Dio O non credi A coloro Che ti hanno parlato Anch'io Sono stato risuscitato Ero morto Nei miei peccati Sono risorto Sono risorto Stavo in una bara Pur vivendo Ora sono risorto In lui Se siete risuscitati In Cristo Dice la parola di Dio Siete risorti Fratelli e sorelle Siete da me Ricordatevi A voi stessi Quando state Io sono risorto In Cristo Gesù Signore Io rivendico Le Tue promesse Abbi pietà di me E le mie richieste Non sono Per bramosia Di potere O perché Chissà cosa voglio Ma perché Mi sento povero E ho bisogno di te E ho bisogno di te Ho bisogno di Gesù Così la vita Della resurrezione Che poi ne parlerò Domenica Ha dei riflessi Delle conseguenze Dei riscontri Enormi Nella nostra vita Quotidiana Vogliamo ringraziare Il Signore Che è un giorno O qualcuno Ci ha rimproverato O qualcuno Ci ha parlato Ma vogliamo Ringraziare il Signore Perché oggi Possiamo dire Sono risuscitato Con Cristo Amen Sono risuscitato Con Gesù Sono risuscitato Guarda Nella Sua vita Non nella mia vecchia vita Sono risuscitato Nella Suo Nel Suo amore Nella Sua gioia Nella Sua onestà Nella Sua castità Nella Sua bellezza Nella Sua bontà Nella Sua benignità Nel Suo perdono Sono risuscitato Nella Sua verità Amen Questo significa Resuscitare Questo Non è solo una parola È una vita Amen Gloria a Dio Che meraviglia Che abbiamo a disposizione Non ti avvilire Non ti scoraggiare Perché Gesù È risorto Amen Gloria al Signore Nella Sua Grazie a tutti.